Amiche e amici della Big Family, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Io sono Valentina, questo è il mio canale TV6NITZ Benvenuti se non ci conosciamo ancora, bentornati se ci conosciamo già Oggi ragazzi e ragazze vi presento un evento pazzesco Aspettando NIT Italia a finale Ligure Subito dopo la sigla Amiche e amici eccoci qui a parlare di questo evento davvero incredibile Aspettando NIT Italia che si svolgerà a finale Ligure dal 6 all'8 ottobre prossimo Ovvero il 2023 Ma prima di entrare nel clou della situation Mi raccomando se non mi seguite ancora seguitemi Mettete un bel like, condividete questo video con tutti i vostri amici A cui piace la maglia da morire In modo che la Big Family diventi sempre più bella e più grande Grazie mille se lo farete Certo è una cosa gratuita però a me aiuta davvero tanto Per cui se volete seguirmi anche su Facebook, su Instagram, su TikTok E comprare qualche pattern su Ravel ritrovate tutti i riferimenti qua sotto Qualunque cosa voi facciate io vi ringrazio davvero tantissimo perché mi sostenete e sostenete la mia attività Ma entriamo nel clou della situation come dicevamo Cari amici, cari amiche, eccoci a parlare di questo fantastico evento Non è NIT Italia, è Aspettando NIT Italia Per cui l'evento è leggermente più piccolino Ma potrete trovare tantissimi espositori Tantissime maestre di maglia che vi porteranno il loro sapere e i loro corsi molto interessanti E delle attività e delle conferenze molto interessanti Quella che vi vado a presentare oggi è un'attività, non è un corso E quindi c'è una bellissima notizia Ovvero è gratuita Di cosa si tratta? Si tratta di un'anteprima ragazze Anteprima di tutti i pattern per la prossima stagione autunno-inverno 2023-2024 Ovvero li vedrete tutti Ne parleremo Li vedrete indossati Li potrete toccare dal vivo Potremo parlare per ognuno della loro storia Delle loro caratteristiche Della tecnica Di quello che occorre perché questo pattern venga bene Di tutti i trucchetti che bisogna possedere per lavorarli al meglio Eventuali filati sostitutivi Eventuali personalizzazioni Insomma sarà davvero un evento unico nel suo genere Anche perché faremo davvero una full immersion E sarà come una specie di mega workshop Ovvero un workshop che ne contiene a sua volta tantissimi Sì perché i pattern che presenterò saranno ben Cinque Sei Sei mai visti Attenzione Cinque mai visti Uno è stato visto ma non è ancora uscito Quindi lo ripresenterò con grande gioia E questi altri cinque pattern nessuno li ha mai visti Solamente le tester e sono pazzeschi Di questi sei pattern uno è uno chalet Tutti gli altri cinque sono maglioni e cardigan Quindi davvero secondo me è un evento da non perdere Aspettate non andate via Ho in servo per voi una sorpresa Dopo questa presentazione pazzesca Se un pattern vi piace in un modo particolare O anche due o tre o anche tutti e sei Potrete acquistare il pattern stesso Proprio lì in anteprima Perché infatti porterò spero sufficienti copie per accontentare tutte Certo i pattern non sono ancora pubblicati Ma voi avrete la possibilità di averli in anteprima Poi quando usciranno mi potrete fare naturalmente la richiesta Di averli anche nella vostra libreria su Ravelry Senza pagare nulla di più Ma non è finita qui Perché durante lo stesso evento Io sarò accompagnata dalle mitiche TV6 Knitter Girls Un gruppo di amiche fedelissime Che sfileranno per voi con il loro pattern preferito in assoluto Spiegheranno anche perché è il loro pattern preferito in assoluto E come mai l'hanno scelto Voi potrete fare delle domande Ve lo potranno illustrare al meglio Insomma sarà davvero un evento unico Cosa dovete fare per partecipare? Allora innanzitutto andate sul sito di Knit Italia Vi metterò tutte quante le indicazioni nell'info box Comunque andate nel sito di Knit Italia Cercate attività E dopodiché cercate la mia Che ha un titolo un pochettino lungo Adesso ve lo leggo Anteprima della prossima stagione dei pattern Di Valentina Cosciani e Defile Da lì potrete facilmente accedere al box dei ticket E prenotare il vostro posto Naturalmente anche se è un evento gratuito C'è sempre da prenotare Io mi aspetto di vedervi tantissime sabato 7 Dalle 13 alle 15 Cosa succederà dopo le 15 Sparirò in una nuvoletta di fumo? Assolutamente no Perché più tardi ci sarà un evento esclusivo Riservato solamente all'associazione Sferruzziamo Che spero di vedere numerosissime E lì mi spremeranno come un limone Già lo so Ma io sarò molto contenta di essere spremuta Perché non vedo l'ora di vederle Ecco ora io credo di avervi detto tutto Io vi aspetto sabato 7 ottobre Dalle 13 alle 15 E mi auguro di vedere tantissime di voi Che spero di vedere tantissime di voi